gli sci più belli ce li ho io allora partendo da badia per arrivare al lagazzuoli prima prendiamo l'impianto del prodigio in piano poi adesso siamo sullo sponata scendiamo la villa dove prendiamo la villa scenderemo giù per la pista bambi prendiamo la sediovia che porta al pizzo rega pizzo rega la pista dell'armentarola lunga fino giù all'armentarola e poi all'armentarola pulmino che ci porta al passo falsare a l'armentarola a l'armentarola a l'armentarola a l'armentarola oh dai si è canale a l'armentarola a l'armentarola a l'armentarola a l'armentarola a l'armentarola Grazie a tutti. 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 Come era la cioccolata? Buongiorno. Buongiorno. Come... Buongiorno. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Puesta emita. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Sì, cittadini. Ossi un mandato o un ciampa? Questo non c'è tutta la carota? Puliccio, vai! Tu hai due daite? Ah, no. No. Ok. Oh, ok. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info hanno bucato grazie 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 So Visto che il nostro generale Non ha ancora pronto il pranzo Facciamo ancora un saldo Pino a Santa Croce Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.